Perché lui ha la finezza, la cultura proposta e anche questa capacità di comunque trasmettere perché quando parla, tu non vuoi che lui smetta, non è quella che si fa, dice oddio, invece se volete posso riprendere, rifacciamo il set, è bello ascoltarlo perché si spiega la storia, è bello capire, insegnare io penso che sia bello fare dei paralleli, far capire quanto il mondo sia ingiusto